Oh, che la dà un pezzo di Gesù? Chi sei? Sopo, non cali, Schermendì! Che farà se il mazzo, almeno se farà se... Che farà? Mares-che farà, mares-che farà? Mares, mares-che farà? Charsha, lo no. È un attimo, vi pò che lo ritardà? Qu' a'l'u, non cali, ci savoir? Chardou! Oh, chi va равно? Chisci l'oscir, chisci l'oscir d'oscir. ref O, che c'è quella, vieni! Vieni qui, mammona, vai! Qui ti sei? Non lo sai che 보i, ecco tu simulacini mi? Tiò, Gheci, scupare e carguei da lìmane, ma? Ma, è qua, 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 è qua! Si è la mia ciumata! Ma il fr�, lascia di farla, si è qua, la mia ciumata! Oh, no, è il fruoi di vibra, no! Oh, no, 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 no! Vieni qui, ragione! Tiò, ghiacini i scupare, vai da colare! O, o! Gasce, s' latino! che rispettate, non hai capito? E su, chiesi, fraktora! Mi hai pensato che, Non hai avuto tempo con la mia. E' una chiamata, non hai capito il piede, non hai capito! Sprengono il fogliato, non hai capito! a tutti gli uomini. Ma ora sono i ragazzi, ma l'allero fai... E non lo fai qui. Mepi che non è una sfumazione, ma l'allero che non è una sfumazione. Ma ora, mi sono in grado, dovete avvercivi anche alla tua parte, ma non lo farò, ma non lo farò. È un'ino. Non lo farò, non lo farò, ma l'allero, ma. E tu hai capitan. Ma che ne agerassite, non lo farò, che non lo farò, non lo farò, non lo farò, non lo farò. E noi, con i Cristo, tu lo farò, non lo farò. Maresou? Parne, gori, non calèpsis, non mi sei fa riso. Hai, sti, signor Presidente, una gravi da pratica! Non è gravi. Maresou? E, di, dai, il pubblico sono inizia di a terra. E, a di orizio, sti lì, se, di, ti, non vi a cuo? Da, i, 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 ti, non ho chiesto, non ho chiesto, non ho chiesto, non ho chiesto, non ho chiesto. O, di orizio, non è un' acceiro, perché non ho chiesto? Sotto! Poi, come i madriani, che? Che d'azcalle ancora viene e il risotto. Ma il risotto è un'accello, perchè ora c'è un'amico scoglio. Poi, i figli hanno avuto un'accello, che è un'accello, è un'accello! Ma è il valore dell'accello! Ma è il risotto! Chi è vero? Chi... Chi... Sottile l'accello che l'accello stessi, che l'accello che aveva, chiamato il risotto! I dè canlù, ma i glederci te vans pù c'entrano. Valla, s' lì ci m'u c'entrano, ma fàmè. Pula, xerà i rizzati! Ma dè cana me stupi ora? Gàtsa te, s'inidrìa si. La voè la cazzu, ma tine, proèdere, la cazzu, e che fàmè? Ma, che... Ha, fèlì, ghiassi kam'nia polifròna. I agadè, ma guù c'u me tà pù c'u. Ma è calà, puè, c'u sì, la cazzà. Ecco il grano, non c'è �canzo. Non c'è nessuno da prenderdo il frano a cuore... Perché ha risposto il proprio nuovimo. E' più più l' altro. No, no, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, ma senti... La mia problematica, c'è nessuno... E' da prendere i trei i nostribe tratti? Ma' un problema. Pa' un problema, no lo so che abbiamo un po. C'è un altro. Oh! D'accordo l'avviso d'effetto. Ecce... Avvodissimo prima la l'enia. Cartevonico. Il primo tema è l'iforoloïa. Tres mesi facciamo a sti cosa raffiando, ma non parliamo di cosa raffiando. Ah! Una, Giulia! I pubblici d'apparare l'iforolo. E' l'apparare l'iforolo? E' l'acquerone l'allio? E' l'allio? E' l'allio l'allio? E' l'allio l'allio? E' l'allio l'allio. E' açò un'voi l'orobitoa confidentiali Erudimoico. E' un'allio l'allio l'atiش e' l'iforoloïa. E' l'allio l'eoforoïa. C'è un' sape un'allio l'iforoloïa. Ma... E' sape un'allio l'esquer whate a fare k'è? Mara! Ma' car.. Ma' car... Ma' car... Ma' car... Ma' car... Ma' car... Ma' car' car... Ma' caro... Ma' car... Ma' car... Ma' car... Ma' car... Si, la storia è rosa, di tutto ciò che la governazione della strada è una scuola e avanti a parlare delle persone dell'uso. Sì, non ho potuto vedere la storia. Ma voi venerate qui? Io ho scoperto di gara, ero che gli hai. Non si sono? Ma ma non sono così, Pantè? Non è così, non è per te farlo, signor Presidente. No, non è così. Dosti che ci sono tutti i due ragazzi, che fanno solo una cosa, e il suo sconio, il suo sconio, il suo sconio, il suo sconio, il suo sconio e il suo sconio. Che abbiamo fatto in una sconetta! Ma non è una grande di talo! Quindi nella città! Ma non ci facciamo in un uomo! In una rci molto! Il suo sconetta è un sconetta! Il tema del padre è il suo sconetta! Ora che facciamo il nostro sconetta! E per ora di fare il nostro mercato sia il nostro sconetta! E per la sconetta! Il nostro sconetta, il nostro sconetta! Sommolta per i xarrui!